Che cos'è l'entropia? Spieghiamolo, perché quando sentono questa parola... Non lo so. Allora, noi stiamo qui tutti e due seduti, l'uno di fronte all'altro da non so quanto tempo. Cinque minuti, dieci minuti, un quarto d'ora. Più o meno un quarto d'ora. E beh, che t'ha già detto. Purtroppo siamo diventati un quarto d'ora più vecchi. Quindi le nostre cellule... Le cellule, mano a mano che passa il tempo, si accasciano. Si avvizziscono. Tranne che quando stanno in televisione. Perché quando stanno in televisione, allora una cellula dice all'altra cellula Oh, stiamo in televisione, stiamo in televisione. E le cellule si mettono un pochino più dritte. Quindi si mettono in posa. Si mettono in posa. Ma se no, le cellule si accasciano. E così ti spieghi perché un bambino a due anni è il massimo della bellezza e poi quando superi i 70 diventa così.